buonasera a tutti mi collego dopo un po di tempo quindi può correre qualche minuto prima che ci siano i primi amici collegati però vedo già i primi ad essere collegati quindi iniziamo volevo condividere con voi questo questo primo settimana dopo molto emozionante dopo che sono stato proclamato presidente della regione marche il primo fine settimana da presidente della regione marche l'ho trascorso in umbria ad assisi perché quest'anno è stata la nostra regione a donare l'olio che mantiene in vita la lampada per il santo padrone d'italia san francesco è stata un'emozione strano stati due giorni molto intensi vissuti ad assisi con una rappresentanza fortissima dei sindaci marchigiani guidati dal sindaco di ancona valeria mancinelli poi c'è stata la presenza di ministri del presidente del consiglio dei vescovi marchigiani e di tanti tanti cittadini che hanno come ogni anno portato il loro festeggiamento al santo padrone d'italia per me è stata un'emozione importante ieri nella giornata di sabato a santa maria degli angeli e e poi invece questa mattina nella abbazia nella chiesa nella nella chiesa di san francesco ad assisi dove alla fine della cerimonia religiosa abbiamo portato anche il saluto al nome per conto della comunità marchigiana a tutto dall'alloggiato della basilica di assisi praticamente a tutti gli intervenuti è stato veramente come prima qualcosa di emozionante perché tra l'altro io sento molto la presenza riconosce forte di san francesco dei francescani nella nostra regione una presenza secolare come ho detto nel mio intervento una presenza che si coglie nelle chiese che si coglie nei conventi che si coglie nei chiostri una presenza che ha plasmato la nostra regione in tutti questi secoli e quindi con orgoglio posso dire che comincia tra l'altro è il mio onomastico quindi con orgoglio posso dire che è cominciato la prima uscita ufficiale da presidente con questa occasione straordinaria per me ma soprattutto per la nostra regione un'occasione importante dove abbiamo ribadito l'importanza del rapporto con la regione umbria abbiamo ribadito anche l'importanza della ricostruzione e della capacità di fare sinergia e fare squadra tra territori vicini e limitrofi era presente alla manifestazione governatore il presidente della regione umbria donatella tesei e con lei abbiamo parlato di tutte le possibilità che potremmo da proficuo nell'incontro sulle infrastrutture sul rilancio delle nostre imprese sui distretti sulla capacità anche di rilancio turistico del nostro territorio del centro italia dicevo una fine settimana molto intenso che era iniziato nella mattina di ieri con una visita ad un'associazione di categoria della capacità del di lavoro della crisi della capacità di dare una risposta ai giovani in quella in quella occasione ho parlato anche di come secondo il nostro punto di vista deve essere affrontata la con forza e determinazione la capacità di saper rilanciare il ruolo dei giovani in questa società noi molto stiamo delle politiche per i giovani sono importantissime dalle start up la capacità di fornire loro le tecnologie adeguate per i tempi che corrono la formazione la scuola il lavoro come strumento di affermazione delle loro grandi capacità delle loro aspettative sul nostro territorio ma credo che i giovani devono aver riconosciuto il loro ruolo anche dal punto di vista politico cioè noi dobbiamo riconoscere ai giovani e metterli ai non ai margini ma dentro delle azioni politiche delle azioni sociali delle azioni economiche perché credo che noi dobbiamo veramente dare loro la possibilità la capacità fin da subito di poter operare questo si fa con una serie di politiche non con una scelta unica una serie di politiche che mettono proprio al centro le loro capacità la loro capacità di innovare la loro capacità di parlare di viaggiare di parlare lingue staniere di viaggiare la loro capacità di portare nella società attuale la visione del mondo del futuro credo che questo sia un elemento essenziale in questa manifestazione che abbiamo fatto e nella relazione è emerso un dato abbastanza preoccupante nel secondo trimestre dell'anno 2020 di quest'anno purtroppo sono più di mille le imprese marchigiane che hanno cessato l'attività la conseguenza è chiaramente riconducibile alla crisi del covid e alle chiusure derivanti al lockdown e tutta la crisi di liquidità e di lavoro di occupazione che poi ne è scaturita sicuramente un numero importante per la nostra regione anche perché va ad appesantire comunque una tendenza che già rinnessere questo è un aspetto che noi dobbiamo guardare con molta prudenza dobbiamo guardare con molta cautela perché le nostre imprese rappresentano il nostro futuro rappresentano il futuro del nostro territorio dobbiamo cercare di difenderle di metterle in condizione di competere prima dicevo prima di partire Brassisi ho fatto anche il mio ingresso in in nel palazzo raffaello ancona e abbiamo fatto un incontro con tutti i dirigenti delle aziende ospedali italiane dell'asur di torrette di marche nord e dell'irca abbiamo parlato un po della situazione dell'evoluzione del covid della nostra regione abbiamo parlato di quelli che sono i fenomeni dal tampone rapido a quelli che sono le questioni legate all'utilizzo dei polmini che tanti genitori ci avevano segnalato con la possibilità di andare a verificare un utilizzo corretto dei polmini per il trasporto scolastico abbiamo parlato di tanti veramente tanti argomenti che sono tutti inerenti a questo momento particolare da cui è scaturita anche l'ordinanza che di fatto amplia a prima delle ore 18 e qui mi piace specificarlo fino ad oggi praticamente dalle ore 18 era obbligatoria per decreto del presidente del consiglio dei ministri la obbligatoria la mascherina anche all'aperto dopo le ore 18 con la nostra ordinanza andiamo ad ampliare a prima delle ore 18 la mascherina non è obbligatoria per tutti mi piace chiarirlo oltre che specificarlo la mascherina è obbligatoria per i momenti di assembramento di calca dove c'è folla che va insieme credo che sia un'azione di prudenza che noi dobbiamo avere una prudenza importante perché la prudenza è un elemento e la prevenzione è un elemento essenziale e la prevenzione non sarà importante fra tre mesi la prevenzione è importante oggi per evitare che fra tre mesi ci siano dei problemi la prevenzione è importante quando il virus ancora non gira forza quando con la prevenzione si riesce ad evitare un problema noi non vogliamo più vedere prima parlavo delle imprese chiuse non vorremmo più vedere non vogliamo più vedere vogliamo scongiurare ogni tipo di chiusura per i bar per i ristoranti per le attività commerciali per le attività produttive vogliamo far sì che i cittadini marchigiani non debbano vivere quello che hanno vissuto nel mese di marzo aprile allora riteniamo che un po più di attenzione un po più di precauzione un po più di capacità di saperci comportare in base anche alle luogo dove ci troviamo possa essere un elemento importante allora voi capite che il virus eventualmente che fosse presente non ha un'ora quindi non è che il virus alle 17 e 50 non c'è e poi alle 18 appare quindi la mascherina alle 18 è importante con il cambio della stagione con il cambio delle abitudini perché la stagione autunnale porta sicuramente a vivere di più insomma a vivere di meno in strada nelle piazze nei luoghi aperti più nei luoghi interni però col cambio delle stagioni col cambio dell'accorciamento della giornata è sicuramente importante un'attenzione particolare con la ripresa delle scuole è importante un'attenzione particolare e quindi nei luoghi dove si possono creare assembramento dove ci si può creare calca dove si può creare folla è utile e importante mascherina anche prima delle ore 18 questo è un elemento di buon senso non è sicuramente un'ordinanza fatta per fare per capirci azioni di repressione è un'ordinanza che vuole accendere l'attenzione su un problema che nella nostra regione in questo momento non è assolutamente con dimensioni importanti però è un'ordinanza che deve rimettere l'attenzione rispetto all'importanza della prevenzione e l'utilizzo della mascherina come elemento che sicuramente aiuta a fermare a bloccare a diminuire la diffusione del virus noi non vorremmo più come dicevo prima arrivare alle chiusure non vorremmo più arrivare a quelli che sono stati danni economici importantissimi allora per fare questo credo che un po di responsabilità un po di collaborazione da parte di tutti e un po di senso civile può sicuramente dare un contributo determinante affinché ognuno di noi possa avere con il suo atteggiamento possa dare con il suo atteggiamento scusate un ruolo assolutamente indispensabile all'azione della prevenzione della collettività dicevo che se ci sarà bisogno nelle prossime ore provvederemo pure a pubblicare a mettere una nota esplicativa che va a spiegare bene che cosa si intende ma credo che non ci sia tanto da spiegare se fino a ieri prima delle ore 18 si portava la mascherina si portava solo dalle ore 18 oggi dalla mezzanotte di oggi la mascherina va indossata prima delle ore 18 solo nei momenti in cui si può creare assembramento sono le situazioni in cui non si riesce a rispettare il distanziamento di un metro nei luoghi alberti all'aperto e non nei luoghi al chiuso dove c'è tutt'altro regolamento dice tutt'altra regola cioè l'indossare la mascherina per quello che concerne la fine della serata la ferata tornando da sisi mi sono fermato a potenza picena dove si festeggiava si sarebbe dovuto festeggiare il santesimo la sessantesima edizione del grappolo d'oro la famosa festa dell'uva della mia città purtroppo quest'anno è in una dimensione ridotta si è deciso di festeggiare la cinquantinoesima appunto 99 edizione del grappolo d'oro è stata una bella serata dove ho potuto riabbracciare i miei concittadini nella mia città dopo mesi che mi hanno visto insomma girare molto ragione marche e vivere poco la mia realtà mi ha fatto tanto piacere di vedere i miei concittadini salutare le istituzioni locali e poter riabbracciare la mia città appunto io vi saluto vi ringrazio volevo condividere questo primo fine settimana così bello intenso e impegnativo da parte mia domani mattina ci metteremo subito al lavoro per affrontare altri problemi dalla sisma che dovrà essere come diciamo sempre uno dei primi argomenti e quindi ci saranno delle riunioni su sisma per la ricostruzione e tanti altri incontri appuntamenti che sono all'ordine del giorno per cercare di rendere sempre più forte e autorevole la nostra regione nel parco scenico nazionale e internazionale buona serata buon proseguimento e buon padrono d'italia a tutti